Harry Potter e la camera dei segreti di J.K. Rowling narrato da Francesco Pannofino un audiolibro offerto da Pottermore from J.K. Rowling il peggior compleanno non era la prima volta che scoppiava un litigio durante la colazione al numero 4 di Privet Drive il signor Vernon Dursley era stato svegliato all'alba da un fischio acutissimo proveniente dalla camera di suo nipote Harry tre volte in una settimana tuonò dall'altra parte del tavolo se non riesce a tenere a bada quella civetta dovrà andarsene ancora una volta Harry provò a spiegare si annoia disse Edvige è abituata a volare all'aperto se solo potessi lasciarla libera di notte ma mi hai preso per scemo ringhio zio Vernon con un pezzetto di uovo fritto impigliato nei baffoni so bene cosa succederebbe a lasciar libero quell'animale e scambiò un'occhiata cupa con la moglie Petunia Harry tentò di replicare ma le sue parole furono sopraffatte da un rutto lungo e sonoro di suo cugino Dudley voglio ancora bacon ce n'è ancora nella padella tesoruccio disse zia Petunia posando uno sguardo tenero sul suo massiccio figliolo devi mangiare finché sei a casa la mensa di quella scuola non mi convince affatto sciocchezze Petunia io non ho mai avuto fame quando ero a Smeltins disse zio Vernon accalorandosi Dudley mangia abbastanza non è vero figliolo Dudley così grasso che il sederone gli debordava da entrambi i lati della sedia si voltò con un ghigno verso Harry passami la padella hai dimenticato la parola magica lo rimbeccò Harry quelle parole ebbero un effetto incredibile sul resto della famiglia Dudley boccheggiò e cadde dalla sedia con un tonfo che fece tremare tutta la cucina la signora Dursley lanciò un gridolino e si mise le mani sulla bocca il signor Dursley balzò in piedi con le vene delle tempie che gli pulsavano intendevo per favore rispose Harry precipitosamente non volevo dire cosa ti avevo detto tuonò suo zio spruzzando saliva su tutta la tavola in questa casa la parola non la voglio sentire ma io e come osi minacciare Dudley rugizio Vernon nello stesso tono battendo il pugno sul tavolo io volevo solo ti ho avvertito non tollero che si nomine la tua normalità sotto questo tetto lo sguardo di Harry passò dal volto paonazzo dello zio a quello pallido della zia che cercava di aiutare Dudley a rimettersi in piedi d'accordo disse Harry d'accordo zio Vernon tornò a sedersi ansimando come un rinocelonte e guardando Harry di traverso con i suoi occhietti penetranti da quando Harry era tornato a casa per le vacanze estive zio Vernon lo aveva trattato come una bomba sul punto di esplodere perché Harry non era un ragazzo normale non era normale proprio per niente Harry Potter era un mago un mago fresco di studi visto che aveva frequentato il primo anno a Hogwarts la scuola di magia e stregoneria ma se i Dursley non erano contenti di riaverlo a casa per le vacanze la loro scontentezza era niente in confronto a quel che provava Harry Hogwarts gli mancava così tanto che era come avere costantemente mal di stomaco gli mancava il castello con i suoi passaggi segreti e i suoi fantasmi le lezioni anche se magari non quelle di Piton il professore di pozioni la posta consegnata via gufo i banchetti nella sala grande le dormite nel suo letto a baldacchino negli alloggi della torre le visitine al guardacaccia Hagrid nella capanna vicino alla foresta proibita e soprattutto il quidditch lo sport più popolare nel mondo dei maghi come porte sei anelli su altrettanti pali quattro palle volanti e 14 giocatori a cavallo di un manico di scopa tutti i libri di magia la bacchetta gli abiti il calderone e la sua superba scopa nimbus 2000 erano stati chiusi a doppia mandata da zio Vernon nel ripostiglio del sottoscala nel momento stesso in cui Harry era tornato a casa che gliene importava ai darsley se lui perdeva il posto nella squadra di quidditch perché non si era allenato per tutta l'estate era forse a far loro se tornava a scuola senza aver fatto i compiti delle vacanze i darsley erano quello che i maghi chiamavano babbani senza neanche una goccia di sangue di mago nelle vene e per loro un mago in famiglia rappresentava la vergogna più nera zio Vernon aveva addirittura messo un lucchetto alla gabbia di edvige la civetta di Harry per impedirle di portare messaggi a chiunque facesse parte del mondo dei maghi Harry non assomigliava affatto al resto della famiglia zio Vernon era grasso e senza collo con enormi baffi neri sia petunia aveva una faccia cavallina ed era tutta pelle e ossa dadley era biondo e roseo come un porcello Harry al contrario era piccolo e magro con occhi verde brillante e capelli nerissimi sempre in disordine portava occhiali rotondi e sulla fronte aveva una sottile cicatrice a forma di saetta era quella cicatrice a rendere Harry così fuori dall'ordinario anche fra i maghi era l'unico segno del suo misterioso passato della ragione per cui undici anni prima era stato deposto davanti alla porta di casa darsley all'età di un anno Harry era scampato a una maledizione lanciata dal più grande mago oscuro di tutti i tempi Voldemort un nome che la maggior parte delle streghe e dei maghi non osava ancora pronunciare l'attacco sferrato da Voldemort era costato la vita ai genitori di Harry ma lui si era salvato con la sua cicatrice a forma di saetta e per qualche ragione nessuno sapeva perché i poteri di Voldemort erano andati distrutti nel momento stesso in cui non era riuscito a uccidere il ragazzo Harry quindi era stato allevato dalla sorella della defunta madre e da suo marito aveva trascorso dieci anni con i darsley senza mai capire perché gli accadesse di far succedere cose strane senza volerlo e credendo alla storia che gli avevano raccontato i darsley cioè che quella cicatrice se l'era procurata nell'incidente d'auto in cui erano morti i suoi genitori e poi esattamente un anno prima Harry aveva ricevuto una lettera da Hogwarts e aveva scoperto la verità così era andato a occupare il posto che gli spettava nella scuola dei maghi dove lui e la sua cicatrice erano famosi ma ora l'anno scolastico era finito e lui era tornato dai darsley per le vacanze estive a essere trattato come un cane rognoso i darsley non si erano neanche ricordati che quel giorno era il suo dodicesimo compleanno non che lui ci avesse sperato molto da loro non aveva mai ricevuto un regalo per non parlare di una torta ma ignorarlo del tutto in quel preciso momento zio Vernon si schiarì la gola dandosi importanza e disse allora come tutti sappiamo oggi è un giorno molto importante Harry sollevò lo sguardo senza osar credere alle proprie orecchie oggi potrei concludere l'affare più grosso della mia carriera proseguì zio Vernon Harry tornò a concentrarsi sul suo pane tostato ma certo pensò con amarezza zio Vernon si riferisce a quella stupida cena erano due settimane che non parlava d'altro un ricco costruttore sarebbe venuto a cena con la moglie e zio Vernon sperava di ottenere da lui un ordine importante la ditta di zio Vernon produceva trapani penso che dovremmo ripassare il programma ancora una volta disse zio Vernon dovremo essere tutti ai nostri posti per le otto in punto petunia tu sarai in salotto disse zia petunia prontamente per dare loro il benvenuto molto bene e Dudley io gli aprirò la porta Dudley sfoderò un sorriso ebete ottuso prego signori Mason volete darmi i sopraviti oh le lascerai senza fiato gridò zia petunia in estasi ottimo Dudley disse zio Vernon quindi si rivolse a Harry e tu io me ne starò in camera mia senza il minimo rumore facendo finta di non esistere disse Harry con voce inespressiva proprio così disse zio Vernon acido io li farò accomodare in salotto gli presenterò te petunia e gli verserò da bere alle otto e un quarto io annuncerò che la cena è servita disse zia petunia e tu Dudley dirai mi permette di accompagnarla in sala da pranzo signora Mason disse Dudley offrendo il suo braccione a una donna invisibile il mio piccolo gentiluomo perfetto sospirò zia petunia e tu chiese malignamente zio Vernon a Harry io me ne starò in camera mia senza il minimo rumore facendo finta di non esistere ripete Harry in tono piatto precisamente ora durante la cena dovremmo cercare di fare qualche bel complimento petunia ti viene in mente qualcosa Vernon mi dice che lei gioca a golf splendidamente signor Mason la prego signora Mason dove ho trovato quel bellissimo vestito perfetto Dudley che ne dici di questo signor Mason a scuola abbiamo fatto un tema su eroi del nostro tempo e io ho parlato di lei questo era davvero troppo sia per sia petunia che per Harry lei scoppiò in lacrime e abbracciò il figlio Harry scoppiò a ridere e si abbassò sotto il tavolo per non farsi vedere e tu ragazzo Harry riemerse sforzandosi di rimanere impassibile io me ne sarò in camera mia senza il minimo rumore facendo finta di non esistere disse e ci manterebbe altro disse zio Vernon con impeto i Mason non sanno niente di te e continueranno a non sapere quando la cena sarà finita tu petunia riaccompagnerai la signora Mason in salotto per il caffè e io porterò la conversazione sui trapani con un po di fortuna avrò in mano il contratto firmato e contro firmato prima del telegiornale delle dieci domani a quest'ora staremo trattando l'acquisto di una casa a Mallorca la notizia non eccitò minimamente Harry non pensava che sarebbe andato più a genio ai Darsley a Mallorca che a private drive bene io vado in centro a ritirare gli smoking per Dudley e per me quanto a te ringhiò Harry vedi di non stare tra i piedi di tua zia mentre fa le pulizie Harry uscì passando per la porta sul retro era una luminosa giornata di sole attraversò il prato e si lasciò cadere sulla panchina del giardino canticchiando tra sé tanti auguri a me tanti auguri a me niente biglietti d'auguri niente regali e per giunta avrebbe trascorso la serata a far finta di non esistere il suo sguardo sconsolato si posò sulla siepe non si era mai sentito così solo più di qualsiasi altra cosa avesse lasciato a Hogwarts più ancora del quidditch Harry aveva nostalgia dei suoi migliori amici Ron Weasley e Hermione Granger ma loro non sembravano sentire la sua mancanza nessuno dei due li aveva scritto per tutta l'estate anche se Ron aveva detto che lo avrebbe invitato a passare qualche giorno da lui centinaia di volte Harry era stato sul punto di aprire con la magia la gabbia di Edvige per mandarla da Ron e da Hermione con una lettera ma non valeva la pena rischiare ai maghi minorenni non era permesso fare incantesimi fuori della scuola questo ai Dursley non lo aveva detto sapeva che solo il terrore di venire trasformati in scarafaggi li aveva trattenuti dal chiudere anche lui nel ripostiglio del sottoscala insieme alla sua bacchetta e alla sua scopa per le prime due settimane Harry si era divertito a far fulgiare tra sé parole senza senso e a guardare Dudley catapultarsi fuori dalla stanza con tutta la rapidità consentita dalle sue gambotte ma il lungo silenzio di Ron e di Hermione aveva fatto sentire Harry così tagliato fuori dal mondo della magia che anche tormentare Dudley aveva perso il suo fascino e ora Ron e Hermione avevano dimenticato il suo compleanno che cosa non avrebbe dato per ricevere un messaggio da Hogwarts da un mago o da una strega qualsiasi sarebbe stato contento perfino di vedere il suo peggior nemico Draco Malfoy solo per avere la certezza che non fosse stato tutto un sogno non che l'anno trascorso a Hogwarts fosse stato rose e fiori alla fine dell'ultimo trimestre Harry si era trovato faccia a faccia niente meno che con Voldemort in persona Voldemort poteva anche essere un relitto di ciò che era stato ma era ancora terrificante scaltro determinato a riconquistare il potere ancora una volta Harry era riuscito a sfuggire alle sue grinfie ma per un pelo e anche adesso a distanza di molte settimane il ragazzo continuava a svegliarsi di notte coperto di sudore freddo chiedendosi dove fosse Voldemort in quel momento senza riuscire a dimenticare quel volto livido quegli occhi folli e sbarrati d'un tratto Harry si drizzò a sedere sulla panchina del giardino aveva continuato a fissare distrattamente la siepe e quella ricambiava il suo sguardo tra le foglie erano apparsi due enormi occhi verdi Harry balzò in piedi e in quello stesso momento una voce beffarda lo raggiunse dall'altra parte del prato io lo so che giorno è oggi cantilenò Dudley caracollando verso di lui i grandi occhi ammiccarono e scomparvero cosa disse Harry senza distogliere lo sguardo dal punto in cui li aveva visti io lo so che giorno è oggi ripete Dudley che ormai lo aveva raggiunto ma bravo disse Harry finalmente ha imparato i giorni della settimana oggi è il tuo compleanno sogginò Dudley come mai non hai ricevuto nessun biglietto d'auguri non ti sei fatto neanche un amico in quel posto di svitati meglio che tu non ti faccia sentire da tua madre a parlare della mia scuola disse Harry in tono glaciale Dudley si tirò su i pantaloni che gli calavano sotto il sederone perché fissi la siepe chiese sospettoso sto cercando l'incantesimo migliore per appiccarle fuoco disse Harry Dudley indietraggiò all'istante inciampando con il panico stampato in faccia tu non puoi papà ti ha detto che non devi fare magie ha detto che ti butta fuori di casa e tu non hai un posto dove andare non hai amici che ti accolgano nomen omen disse Harry con voce stentoria ocus pocus arti morti mamma urlò Dudley incespicando nei propri piedi mentre si precipitava verso casa mamma Harry sta facendo quella cosa lì Harry pagò caro quell'attimo di divertimento visto che né Dudley né la siepe avevano riportato alcun danno sia Petunia capì che in realtà lui non aveva fatto nessuna magia tuttavia Harry dovette chinarsi per schivare il colpo di una padella insaponata poi sia Petunia lo mise al lavoro con l'avvertimento che non avrebbe mangiato fin quando non avesse finito mentre Dudley ciondolava in giro mangiando gelati Harry pulì i vetri lavò l'auto falciò il prato e rassettò le aiuole potò e annaffiò le rose e ridipinse la panchina del giardino il sole sfolgorante gli bruciava la nuca Harry sapeva che non avrebbe dovuto cadere nel tranello di Dudley ma lui aveva detto ad alta voce esattamente quel che Harry rimuginava dentro di sé forse era vero che non aveva neanche un amico a Hogwarts come vorrei che vedessero il famoso Harry Potter adesso pensava furibondo mentre spargeva con cime sulle aiuole tutto sudato e con la schiena dolorante erano le sette e mezzo di sera quando finalmente esausto udizia Petunia che lo chiamava vieni qui e vada a mettere i piedi sul giornale Harry fu felice di raggiungere la penombra della cucina tirata a lucido in cima al frigorifero troneggiava il dolce preparato per la cena un'immensa montagna di panna montata guarnita di violette di zucchero un arrosto di maiale sfrigolava in forno mangia svelto i meson saranno qui tra poco lo incalzò zia Petunia indicando due fette di pane un pezzo di formaggio sul tavolo da pranzo lei indossava già un abito da cocktail rosa salmone Harry si lavò le mani e trangugiò il suo misero pasto appena ebbe ingoiato l'ultimo boccone zia Petunia fece sparire il suo piatto e ora fila di sopra passando davanti alla porta del salotto Harry intravide zio Vernon e Dudley in smoking e cravatta a farfalla era appena arrivato al pianerottolo quando il campanello suonò e la faccia furibonda di zio Vernon apparve in fondo alle scale ricorda ragazzo un solo rumore e... Harry raggiunse la sua camera in punta di piedi vi scivolò dentro chiuse la porta e si voltò per buttarsi sul letto peccato che fosse già occupato ... ... Grazie a tutti.